Ciao dal Maui, in questo capitolo ti farò vedere come convertire i preset di nuova concezione .xmp adatti per Adobe Lightroom e Adobe Photoshop sono appunto compatibili in cross platform per tutte e due le piattaforme in formato più vecchio .lr template molti di voi mi chiedono proprio questo formato perché desiderano utilizzare le vecchie versioni di Lightroom e ora vi faccio vedere da una collaborazione con un fotografo e sviluppatore che ringrazio Giovanni Alleri che ha creato un fantastico preset converter e andiamo subito ad analizzare come funziona e vi do tutte le dritte per convertire non solo i miei preset ma in generale tutti gli .xmp che avete in formato datato per vecchie versioni di Lightroom innanzitutto se sei se stai guardando questo video dopo questo video troverai all'interno dei miei corsi un capitolo dove cliccando qui andrai nella pagina originale scritta in inglese perché probabilmente è un prodotto venduto in tutto il mondo e quindi molto molto valido e qui invece un link che ho messo io convertito in italiano che è quello che andremo a trattare ok quindi vedrai sia la versione in inglese che è questa al primo link nella pagina dell'autore sia la versione in italiano premessa io non ho nessun tipo di interesse di guadagno a venderti questo tipo di prodotto ovviamente ha un costo secondo me è un costo molto accessibile perché di fatto per 12 euro ti porti a casa qualcosa che ti permette di convertire tutti i preset in xmp in formato LR template eviti di aggiornare Lightroom se non vuoi aggiornarlo se invece vuoi aggiornarlo ti funzionano anche gli xmp è una scelta tua io ti voglio solo far vedere come ho fatto a convertire i preset in modo veloce e completo e oltretutto Giovanni è stato molto disponibile perché ha analizzato nello specifico i miei preset e ha sviluppato una versione perfetta per convertire anche i preset ad alto controllo quindi una versione apposita per i miei preset che garantisce la conversione completa in maniera molto molto efficace e lo ringrazio anche per questo di contro mi sembrava il minimo fare un tipo di video del genere sia per te che vuoi convertire i preset sia per lui che ha fatto un prodotto decisamente valido ma partiamo allora è un programma che funziona in java ok quindi ha il suo manuale per il supporto rivolgiti direttamente a lui è lui lo sviluppatore io non saprei dirti se c'è qualcosa che va o non va come va modificato io ho visto che sui miei ha funzionato tutto e quindi te lo consiglio per questo motivo c'è scritto veramente tutto in maniera molto molto semplice quindi gira su piattaforma java la prima cosa che devi fare è verificare se il tuo sistema supporta già questo se lo supporta andiamo avanti se non lo supporta torniamo un attimo qui ma andiamo per passi allora quando tu ti scarichi il checker si chiama preset checker è un sistema quello che c'è scritto scarica qui prima di acquistare è un sistema che ti fa vedere se il tuo computer supporta questo genere di piattaforma ti parte questo stai tranquillo non è un virus sono programmi che ovviamente non sono distribuiti in larga scala magari non sono certificati però di fatto non c'è nessun tipo di problema garantisco io perché l'ho provato sui miei computer l'ho provato su quattro mi funziona su tutti e quattro ok dal portatile alle workstation quando tu fai partire questo e vedi sei in questa schermata allora stai tranquillo perché funziona e puoi andare avanti se invece non dovesse funzionare allora puoi provare torniamo qui a scaricare la versione di java ok e la installi va bene qui o qui questa è l'ultima versione del java runtime lo installi e poi fai sempre la tua prova con questo e arrivi al punto di prima prima di fare l'acquisto prima di prendere altrimenti potrebbe non funzionare e l'avresti fatto per niente nel momento in cui tutto funziona dopo l'acquisto ti potrai installare che poi è un eseguibile quindi non hai bisogno di installare nulla il famoso java converter preset che parte come prima vedi ti trovi la stessa schermata queste sono le condizioni di utilizzo tu clicchi su accetta sì e ti trovi eccolo qua ti trovi in questo in questa schermata molto molto semplice come funziona? guarda è talmente semplice che non dovrai spiegarti nulla però ti voglio far vedere i passaggi innanzitutto io ho scaricato in una cartella i preset questi sono del mio ultimo set lo smart kit ma vale per tutti gli altri in una cartella ho scaricato i miei preset punto zip li unzippo ovviamente non vado ancora ad installarli li ho solo unzippati vado qua dentro e cosa mi trovo? mi trovo diversi kit di preset in formato .xmp come vedi se hai una versione di Lightroom Photoshop aggiornata nessun problema li metti su così e funzionano purtroppo Photoshop garantisce Lightroom garantisce la retrocompatibilità quindi se tu apri un punto LR template lui te lo va ad aprire e lo converte subito in XMP non fai il contrario insieme a una versione vecchia l'LR template devi generarlo con un sistema del genere ma andiamo a vedere come fare vado su Browse che vuol dire cerca la cartella vado sul mio desktop mi trovo la cartella preset in XMP e seleziono per esempio questi qua che sono i preset di Ansel Adams vado a dirgli aprimi questa cartella apri vedo che il percorso è corretto ok e vado a dirgli qual è la destinazione attento perché ho notato la destinazione non può essere la stessa ma è anche meglio perché per non fare i pasticci andiamo a metterla in un'altra quindi preset in XMP la cartella del preset da dove ti li vai a caricare faccio una nuova cartella e li chiamo LR template per esempio Adams vado a aprire questa cartella ok e vado a dargli start già fatto ok quindi mi ha aperto tutti i miei preset mi dice 5 file sono stati convertiti 0 file non sono stati convertiti quindi vado dentro nella mia cartella che ho appena creato LR template Adams e mi trovo tutti i preset di svariate dimensioni differenti punto LR template a questo punto posso procedere a installarli all'interno del mio Lightroom come di consueto quindi vai a metterli nella cartella dove già si trovano gli altri preset oppure vai a importarli direttamente dall'interfaccia ho fatto dei video e comunque penso tu sia in grado di farlo perché è un'operazione molto molto semplice è quella classica per installare i preset ti faccio vedere altri due casi ok perché c'è questo tipo di spunta perché a volte in alcuni preset non vengono letti i profili delle fotocamere perché magari non sono contemplati all'interno di quella versione in ogni caso lo sviluppatore cosa ha fatto ha fatto una cosa molto intelligente ha detto nel dubbio forzami l'utilizzo del profilo standard di Adobe io ti consiglio perché ho visto che sui miei preset dove c'erano dentro delle informazioni del file di questo tipo che non venivano convertite correttamente e poi semplicemente vai a perdere il profilo della fotocamera ma te lo puoi ricreare riscegliere come vuoi tu in funzione appunto dei profili che ti carichi il tuo file raw ok non scendo nei dettagli ma fidati per me puoi tenerlo ceccato quindi selezionato su tutti me l'ha fatto per esempio con il brutto tempo e con gli urbano questi due che avevano profili mi aveva detto guarda che non trovo il profilo quindi io faccio il check su questo bottone vado a fare browse quindi vado a cercare per esempio questi qui brutto tempo sono quelli ad alto controllo quindi hanno dentro anche tutti i pennelli e pensa il convertitore con la nuova modifica che ha fatto lo sviluppatore riesce perfettamente a convertirti in LR template anche per versioni vecchie quindi meno performanti di Lightroom riesce a convertirti senza problemi anche quel tipo di funzionalità allora qui andiamo a creare una nuova cartella andiamo a chiamarla sempre LR template brutto tempo ok apriamo apriamo diamo lo start e anche qui a fine processo se tutto è andato bene ti troverai con nessun errore altrimenti ti dice qual è stato l'errore e di nuovo se hai problemi contatta direttamente a questo indirizzo Giovanni che è una persona molto disponibile molto in gamba e quindi sicuramente saprà aiutarti se c'è qualcosa che non va se invece ti dà conversione finita 9 preset convertiti e ti ricordo che i brutto tempo sono tra i preset più pesanti e impegnativi che io abbia fatto infatti c'è stato bisogno di creare una versione apposta perché aveva dentro un sacco di informazioni in più rispetto a quelli che sono i preset standard se tu converti i preset standard non hai di sicuro problemi vado in brutto tempo e li trovo qui vedi con tutte le loro belle dimensioni pronti ad essere installati anche in una versione datata di Lightroom puoi ripetere questa operazione quante volte hai voglia questo tipo di prodotto è con una licenza ad uso illimitato quindi prendi tutti i preset XMP che hai io ti consiglio di farlo cartella per cartella perché nel momento in cui vai a posizionarli manualmente oppure nel momento in cui vai a metterli hai comunque un minimo di ordine proprio perché quando vai a riutilizzare i preset è comodo avere una cartella che ti dice quale tipo di preset vai a utilizzare e in quale ambiente stai lavorando io mi trovo come ben sai più comodo così quindi tutto molto semplice anche se vai nella sua pagina originale lo trovi nella versione inglese è davvero davvero semplice tutte queste istruzioni sono molto molto comode dice anche se sei un utente di macOS io sono un utente Windows quindi questa parte l'ho saltata però ti dico è veramente molto corretto il fatto che ti faccia provare prima dell'acquisto vedere se funziona se poi fai l'acquisto ti arriva a me è arrivato immediatamente ho visto come funzionava mi sono interfacciato con l'autore ho detto guarda che ci sono alcuni miei preset che sono un pochettino più evoluti l'ha sviluppato verticalmente e davvero è stato molto molto veloce molto performante mi ha dato una grande bella impressione e quindi sono molto molto felice di poter condividere con te questo genere di soluzioni è una soluzione a pagamento è una soluzione che costa 12 euro però valuta tu se decidere di fare l'upgrade a una delle nuove versioni di Lightroom che supporta XMP oppure utilizzare questa funzionalità che io l'ho testato con i miei studenti che hanno preso appunto il preset ad alto controllo ultimamente e funziona decisamente bene ho voluto appunto aggiungere questo video anche all'interno di altri miei corsi sul mio canale quindi se tu sei all'interno di un altro corso e stai visualizzando dei preset che sono contenuti nei miei corsi o nei miei preset pack e non sono stati convertiti sappi che hai il modo in autonomia di convertirti i preset e di farli funzionare anche sulla tua versione di Lightroom ok? quindi se vuoi utilizzare questo prodotto vai a questo indirizzo questo indirizzo qui oppure più facilmente ti ho messo un link rapido che è bit.ly slash preset converter e vai alla pagina originale dell'autore per qualsiasi domanda in merito a questo prodotto come ti dicevo non sono un rivenditore non ho interesse a rivendolo se non ha il piacere di fare un favore a un collaboratore che mi ha fatto davvero un grande favore nello sviluppare un prodotto del genere verticalmente per il mio tipo di preset e che l'ha fatto anche a te perché ti risolve un bel problema e con un click ti puoi trovare tonnellate di preset tempo di lavoro ottimizzato e creatività aumentata ti ringrazio per avere visto questo video ti saluto e ti auguro una buona applicazione e una buona nuova creatività con i tuoi nuovi preset ciao dal Maui ciao dal Maui ciao dal Maui ciao dal Maui ciao dal Maui